Ebbene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui su Roblox Nella modalità del cervello Praticamente vi spiego Ma io mi sono un po' buggata Propriamente senza Senza Shoppare Qui praticamente Ecco Dicevo ragazzi Posso giocare a Brawl Stars A Roblox Ecco qui c'è anche mio fratello Ciao Lui si chiama Trattino Basso Sempre su Youtube Trattino Basso Peppe 07 E se l'è fatto oggi L'account L'account E comunque praticamente noi Io premo E c'è il libro Ed è chi è più intelligente Mio fratello E lui Dov'è? Ecco di qui sotto l'albero No io non sono io Io sto scendendo da una nuvola No vieni qui Vado al cello Bravo Eccolo qui Lui e mio fratello Diventa un po' più grande Con la testa Eccolo qui E io come ho esagerato Ecco Ecco Aspetta Io devo andare Alla seconda mappa Sì vai Alla praticamente Non so se già Già conoscete la mappa Però vabbè Se tipo Mi volete consigliare Delle mappe In cui andare Se volete per esempio Che io vado in quella mappa Ditelo che io ci vado In tre secondi Cioè E ci gioco Anche insieme a voi Perché mi chiamo Che c'hai Giuseppe? Ma mi sto incavolando Perché Qua Mi mamma Non le ha chiamate Lui è questo Giuseppe Trattino Basso HDVH No raga voi Comunque Lo ripeto Lasciate il like E commentate E attivate la campanellina E iscrivetevi al canale Se lo fate Se sarete bravissimi E migliardari Su Roblox Ecco Fatelo anche voi E lo ripeto E Eccomi qui Le bad Trattino Basso Il 08 E si Sono 08 Vabbè Vi faccio vedere Anche io Il mio profilo Praticamente Dovrei raccogliere soldi Per Avere più cervello Giuseppe Vgf E storia enorme Basso HDVH Vedete Quindi vabbè Lasciate HDVH Perché l'ho fatta a caso Perché Eh si Infatti L'ho fatta a caso A casissimo Comunque Lasciate stare Vgf Così per Così Allora ragazzi Spiego un po' Praticamente Quando io salto Quando io salto Visto che ho Ehm Trecento Quattrocentocinquantamila Raga Andiamo Proviamo ad andare nello spazio Nella quinta mappa Poi ci proviamo Praticamente Visto che ho Quattrocentocinquantamila Avevo Perché l'ho fatto sell Se me lo consigliate Ecco infatti Possiamo giocare Anche ai giochi horror Tranquilli Ehm Praticamente salgo Sulle nuvole E poi dalle nuvole Mi portano in altre mappe Io però Non ho fatto Soltanto quattro mappe Campi di pace Poi neve nevosa Un attimo Ascoltate il suo rumore Perché da noi sta piovendo Sì mamma Mi sta piovendo Fortissimo Dun E Roccia galleggiante Ah se volete Poi Compriamo Se volete Compriamo Tipo Non lo so Tipo C'hanno detto Che ci sono le ciupasciups enormi Però non quelle Ecco Ecco Però io Non lo so Se in questo Canale Farò anche Video Anche senza Videogiochi Però Per ora Farò soltanto Video Vabbè questo è sponsorizzato Praticamente da Roblox Sì giusto Sponsorizzato Vedi Sponsorizzato Ile Sì Vabbè Lasciate stare Ehm Comunque Ah io ora ho 5000 euro Però dovrei arrivare a 50.000 euro Vabbè Allora l'ho sbagliato Perché Sì È il primo video che faccio Quindi non è che sono Sì vabbè Lasciate stare C'è Vabbè Lasciate stare Per favore Non mi insultate No vabbè Non penso che sono così Cattivi da insultarti Comunque Andiamo alla quarta mappa Anzi no Prima di andare Alla quarta mappa No no Io vado nella prima Per raccogliere Tutti i cervelli Ecco vedete Ora 13 minuti Ci saranno Altre cose da raccogliere Lì c'è quel piccolissimo Quello è me Andiamo a neve nevosa Neve nevosa Voilà Andiamo Dune Non si legge dune Però vabbè Ho fatto sale Sono una cretina No S'è accaduto No niente Eh Ci siamo andati No Ci siamo andati Prova Rocce galleggianti Alla Facciamoci un po' Con il cervello Abbiamo 16.000 euro 16.000 euro Ho sbagliato Dai facciamo un po' Cosè Raccogliamoci un po' Di soldi Per il prossimo Che costa 50.000 euro Non c'è 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 Quindi Vabbè Spero che l'avete capito Il gioco Però se non l'avete capito Scrivete nei commenti E ve lo spieghiamo Ecco Ma a parte questo C'è Lion Non so se lo conoscete Che lo fa il video Ecco Che fa il video Di questa mappa Quindi tranquilli Cioè Vi guardate il video Di Lion Hai un VGF Ovvio Per esempio A noi ci piace un po' Un po' ci piace Però non dite Che è per bambini Perché ognuno Ha i propri gusti Un po' è vero Perché alcune cose Sono finte Però Alcune cose Sono finte Non è vero Sì no Quello dell'epidemia Che io me lo seguo Perché Cioè Me lo seguivo Tipo dall'inizio Dalla prima Dalla prima Ambe si Lasciamo stare Quello è un po' Cioè Tutti Cioè Poi se conoscete VGF Vuol dire Perché loro ci giocano Le modalità di Roblox Quindi se li conoscete Raga mi sono persa Scusate Nel frattempo Se mi si bug No Però Cioè Cioè È un Wiko Quindi non è un telefono Proprio Troppo Accurato Cioè Ambe Direi che non c'è bisogno Cioè Io faccio Selle Ecco Anche io Non voglio fare Più Parcute Scusate Perché devo levare Sti cappuccioni Perché se io metto così Ecco Se noi mettiamo tutti Tutti i cappuccioni Vediamo tutte le teste di tutti Vedi Amici Così vedo soltanto Giuseppe Con la testa enorme Vabbè Facciamo una gara Ah Facciamo una gara Ah che cosa Chi è la testa più grande Vieni qua sul cell Lo dico io Via Cioè questo qui sotto all'albero È piccolissimo Da un'ora Aspetta Due Ma dovete essere andato Qua Tre Due Lo dico io Vieni qui sul cell Ma io già sono sellato Tre Due Uno Via E vabbè Ho vinto Sì hai vinto Non cresci Sì non cresco Ora mi vedi Non ti vedo E leva il coso Leva Everlyon Raga Come vedete sono enorme Ora ve lo faccio vedere Aspetta perché devo fare sta gara Con mia sorella No Giuseppe io non vedo niente Guarda sto vedo tutto grigio No no Il video che cosa vedi nel video infatti No no niente Vabbè dai Non possiamo farla più che tristezza Io ti vedo Quanto costa il prossimo Mamma mia sono volata Il prossimo libro Se è uguale al mio Se è anche tuo a coloro rosso 50.000 Mamma mia Oh Quanti soldi hai Giuseppe Già c'è Roblox Ti è scritto Giuseppe Nella chat Chi è sta qua Scrivi sì Aspettate raga Aspettate raga Momentizia Può essere quello qua Può essere soprattutto Può essere che lo conosce 19 milioni Mamma mia Ai Che mi ha fatto scrivere ai Sì Perché sono andata qui Ma è ancora nel gioco sta qua Ma infatti Dimmi che Eccola qua E ha scritto Niente Oltre a questa qua mi conosce Oppure non ti conosce Quanti soldi sei? Quanti soldi sei? Sì 14 milioni Tu? 29 milioni Grazie Grazie Tra poco Ci compriamo Va bene ragazzi Vediamo Tra un po' Quando mi compriamo Il prossimo video Perché Sì Va bene Senti a me Il prossimo libro Il prossimo video Eh sì Io blocco Vabbè Eh sì Sennò io è annoiato Ho paura di questo Va bene Dai In questo video Lasciate like Ma in che senso Tu vuoi chiudere? Certo Eh Già siamo con 10 minuti Davanti Per 5 minuti Mi spaventano Se stanno annoiando No io Ragazzi Vediamo dopo Ok Ciao Ragazzi Lanciamo una sfida Noi due Se Il mio video Il mio solo Vabbè anche il suo Se potete Per il mio Per il mio Se nel mio video Raggiungete Quanto? Aspetta Se nel mio video Mio video Questo Raggiungiamo I Sette like Vi prometto Che compro Un paio di robux Ok raga Ora lo posso dire Allora Se voi Se arriviamo A 8 like Compro Quello Da Compro Lo robux Raga Giuseppe Se dice Che si arriva A 8 like Prendo Quello Delle Che salgo Più in alto Di 3,49 Raga Ci provo Perché Io invece Se prendo 7 like Mi compro Mi compro Anzi raga Ci vado Ci vado Proprio Così E mi compro Questo Questo Di fare Leggere Più veloce E costa 10,99 Quindi 11 euro Ci proverò Io vediamo Quanto Costa Questo Dietro La nostra TV Comunque Su qui Quanto Costa 5 minuti E poi Chiude il video Raga Perché Poi Mi spavento Che Vi annoiate Ah bene Dai raga Quindi Va bene Va bene Se arriviamo A 7 like Mi compro Questo qui Capacità Celebrale Infinita Ma quale Questo qui No Non è buono Non è buono Perché Propriamente Ha il cervello Che è infinito E infatti Ma schifo Ma è vero E qual è Quello L'ultimo Questo Scendi Questo Ti legge Più veloce Ti fa Posso Di fare Così Piano Va bene Raga Allora Questo Lettura Più veloce Va bene Ragazzi 7 like Mi raccomando Se no Non lo faccio Comunque Comunque E va bene Ci vediamo dopo Appena Comprerò L'altro libro A dopo Ma che poi Raga Vi volevo Anche Ringraziare Che il primo Video Ha fatto Già 7 like Perché se non mi sbaglio 6 8 8 8 8 8 8 8 8 Sono troppo Contenta Regà No Veramente Grazie Di tutto Poi Oddio Oddio 10 iscritti Veramente Grazie Veramente Vi amo Tutti Grazie Che divento Tutto nero Perchè Non lavare le cose Ok No Final Mad Ragazzi Uh Todododo Libro D'argento Uh Quanto Da Sì Uh 200.000 Perfetto Raga Va bene Dai Noi ci vediamo Domani Con un prossimo Video Penso E se no Niente Ciao raga Ciao a tutti Grazie mille ancora Per i like E i seguiti Ciao Ciao Grazie.